Mi chiamo Guido Corradi, sono nato in provincia di Parma, ho cominciato a lavorare in Mercedes nel 1979, febbraio 79. Ero un disegnatore di carrozzerie di ricoli industriali, a mia insaputa mia moglie ha fatto la domanda leggendo l'annuncio sul giornale qui di Roma che la Mercedes cercava un tecnico. Ho fatto la selezione, lunghissima, sono arrivato secondo. Il selezionatore mi disse mi dispiace per te però ti presento un signore che sta cercando un collaboratore. Quel signore era Giuliano Fiorelli che fu il mio capo per dieci anni e lui era il capo dell'Unimog, proveniente dalla Spezia. Il gruppo di La Spezia, composto da Fiorelli, Lanzoni, Cerretti, Neri e Tosi, fu trasferito da Italmotor a Mercedes-Benz Italia. Lì inizio la mia avventura che dura per quasi 40 anni sono in pensione dal 31 luglio 2015. Sono stato molto orgoglioso di essere per tanti anni il capo in Italia dell'Unimog. La vendita è stata dedicata esclusivamente attraverso la rete di concessionarie Mercedes. C'erano dei venditori specifici o specializzati nell'Unimog che dovevano conoscere il veicolo ma soprattutto conoscere i lavori che svolgeva l'Unimog. Lo sgombra neve, l'antincendio, il fuoristrada. Il nostro obiettivo era quello di istruire un venditore in ogni regione d'Italia in modo che avesse un territorio abbastanza vasto da poterci lavorare con profitto. Noi eravamo anche alleati di partner delle attrezzature, ad esempio nello sgombra neve, a saloni e giletta. La sede centrale a Roma, dove ero io, era dedicata soprattutto a seguire i venditori ma anche tutta la parte di ordering in fabbrica, le dimostrazioni invernali, le dimostrazioni estive, i viaggi in fabbrica, rapporti con i grandi clienti. I grandi clienti erano l'ANAS, l'ENEL, le ferrovie dello Stato, i vigili del fuoco. In tanti anni molti sono stati gli Unimog particolari. I più prestazionali per me sono stati il 1650 con 211 CV, aveva un rapporto qualità-prezzo sorprendente. Poi il 400 della serie UGN con il 6 cilindri con 230 CV. Questi sono stati il top degli Unimog e lo sono ancora, penso. Nella mia storia ci sono vari lanci. L'UX100, di cui si parla pochissimo nella famiglia Unimog. È stata una meteora che è durata un paio d'anni. L'U90 e l'U140, lanciati nel 92 con il mio capo di allora, Andrea Sir Spiegelfeld, a Sirmione. E poi ovviamente la gamma UGN lanciata nel 2000, ad Ascoli Piceno, è stato un grande successo. Il mercato principale erano le pubbliche amministrazioni, però molti privati ci hanno fatto Camper, Pierino Druda, uno per tutti, che ci ha fatto giri incredibili in tutto il mondo. L'ENEL è stato un grande cliente con dei cestelli aerei. Gli abbiamo fornito 120 Unimog tra U20 e U218. Poi ci sono le ferrovie dello Stato, ad esempio, che hanno Unimog Stata Rotaia. Hanno Unimog comprati in abbinamento con la Polizia Ferroviaria per interventi lungo la linea in caso malaugurato di disastro ferroviario. Gli Unimog speciali, già l'Unimog è speciale di sé, ma più speciali ancora sono gli Unimog Dakar. Non dimentichiamoci che Giacomo Vismara, con un 1.3L da 170 CV, ha vinto la Dakar. Giacomo Vismara con un 400, è arrivato terzo nel 2005-2006, mi pare. I camion già allora avevano delle potenze di oltre 1000 CV e l'Unimog era la metà. Oscar Moro è stato un grande pilota, mio collaboratore, ma è un grande pilota anche di Unimog. Mutti, Bellina, titolare dell'Idaltrans, Perrotta, Cambiaghi, sono tutta gente che ha comprato, allestito Unimog per la Dakar e Rally dei Faraoni ad esempio. Parlando di gente che è mancata, ovviamente devo ricordare Manlio Andreini che era un grande amico, mancato purtroppo nel 2001, un grande venditore di Unimog in Piemonte e Baldaosta. Maurizio Baiocchi della MB Roma che ha fatto un grande lavoro nel centro Italia. Delfo Galli a Milano, faceva parte del clan di Ferentano, era un cantante. Tra i miei collaboratori voglio ricordare Giovanni Cavalla che è mancato da pochi mesi. Voglio ricordare Adriana, Claudia e Paola che erano in ufficio con me e senza di loro non avremmo avuto i successi che abbiamo avuto. Rolando Cerretti l'ho già nominato, è stato un tecnico e un dimostratore di sgombra neve eccezionale. Oscar More, Gaetano Marchetto, Vito Masi che dava un grande supporto durante le manifestazioni. Tra i venditori, oltre a Andreini, Vernetto a Torino, Suriani a Trento, Ploner a Bolzano, Berzotti e Butazioni Udine, Tommaselli in Campania e Musumesci in Sicilia. Al centro Italia c'erano anche Tiberio Macchia, Michele Italiani, Onorati. Il centro Italia era gestito tramite l'ispettore Tiziano Coccia che era veramente in grado di fare gruppo. Parlerei anche dell'usato, però insomma dell'usato io riconosco soltanto la validità, la serietà e la competenza di René Düsseldorf. Una grande persona, un grande commerciante di Unimo Gusati, molto serio, molto onesto. Del resto preferisco non parlare. Erei un campominato, qui stiamo andando su un campominato. Preferisco, no comment, non comment. La vendita del nuovo è molto ma molto più complessa della vendita di un usato di 25-30 anni fa. Il mio lavoro non era fare il venditore, il mio lavoro era quello di gestire un'azienda all'interno di un'azienda con le sue problematiche. Io mi paragono sempre al venditore di Aragosta o di caviale all'interno del supermercato popolare che campa vendendo il prosciutto, il formaggio, il pane, il detersivo e il venditore dell'Aragosta, se c'è, qualifica il supermercato. Se non c'è, il supermercato campa lo stesso. Anzi, forse campa anche meglio perché qui lo spazio può essere occupato da qualcuno che vende il prodotto più popolare. Già questa era una grossa difficoltà a mandare avanti il settore. Settore che nel 98 ha rischiato di essere chiuso. Infatti fu nominato commissario straordinario per la chiusura del settore, però per mia fortuna sono riuscito a ripianare le perdite ingenti che c'erano e a portarlo in forte attivo. E' il settore unimo che ha continuato ad esistere in Italia. Dalla Germania non arrivava materiale in italiano. Eravamo noi a tradurlo, eravamo noi a fare il listino attraverso questi manuali tedeschi che ci arrivavano e attraverso il listino. Quindi era un compendio di questioni tecniche, questioni commerciali e soprattutto il lungo elenco di codici con la plausibilità per ogni codice. Per cui se volevi mettere la presa di forza dovevi avere la doppia frizione eccetera eccetera eccetera. Ed era abbastanza complesso ed era nostro compito anche formare i venditori perché se si sbagliava un ordine erano problemi enormi perché costava tantissimo poi rimettere a posto le cose. Vorrei ricordare anche, riguardo al mio settore, non c'entra con l'unimo però mi fa piacere dirlo, che nel 2003 fummo incaricati del rilancio dell'Econic. È un veicolo speciale che viene prodotto lungo la linea di montaggio dell'Unimog ed serve per la raccolta dei rifiuti urbani. Cabina ribassata e cambio automatico di serie sono le sue principali caratteristiche. Presi l'Econic con una media di vendita di otto pezzi l'anno, l'ho lasciato a 80 pezzi l'anno. Anche degli Unimog la media di vendita era intorno ai 75-80 Unimog nuovi l'anno, con punte di 120-125 Unimog in base alle gare Anas o Enel che si potevano vincere. C'era una grande competizione con i miei colleghi con i quali mi vedevo in Germania ogni quattro mesi, c'era una grande competizione con la Francia che ne vendeva sempre più di noi. Io ne vendevo 100, loro ne vendevano 110, ne vendevo 120, loro ne vendevano 150. Con l'Austria che viaggiava sui nostri numeri 75-80, l'Inghilterra è stato un periodo che vendevano 60-70 Unimog. Quindi c'era sempre una forte competizione ed era stimolante poter fare questo e questi confronti prima a Gaggenau e poi a Wörth. Ci incontravamo in fabbrica dove ognuno di noi portava il resoconto di quattro mesi di esercizio, quindi vendite ma soprattutto conti economici. I tedeschi sono sempre stati molto attenti alla redditività dell'impresa e poi loro ci raccontavano quali sarebbero stati gli sviluppi futuri della produzione, ci facevano vedere miglioramenti che venivano apportati sull'Unimog. Ci facevano far parte della loro bellissima famiglia Unimog. Per molti anni abbiamo costruito all'interno del mio settore una rivista sulla base di Unimog Journal che veniva prodotto in Germania, una rivista interamente dedicata al mercato italiano, nella quale ci faceva molto piacere poter descrivere le vendite che venivano fatte ai clienti italiani e di questo ne andavamo molto orgogliosi. Un a caso mi piace ricordare l'Unimog dell'Etna, una grandissima, grandissima fatica dover mettere a punto questo prodotto e poi una grandissima soddisfazione vedere 15, 20, adesso non ricordo più quanti, Unimog girare sull'Etna. Questo anche grazie appunto al contributo di Rolando Ceretti, di Oscar Moore e di tutte le prove che ci facevano fare, andare su e giù sull'Etna. Un'altra cosa che mi piace ricordare è nel 2003 il crossodromo di Cingoli. Noi vendevamo gli Unimog ovviamente parlando con l'assessore alla viabilità, parlando con l'ingegnere capo della provincia, poi c'era una gara, si poteva vincere o si poteva perdere, comunque se la vincevamo arrivava l'Unimog in provincia o al comune. Era una cosa che gli arrivava da sopra, l'autista poteva fare il successo o l'insuccesso dell'Unimog. Ci voleva molto poco a dire che l'Unimog non funziona, l'Unimog è complicato, ma cosa avete comprato? Preferivo un'altra cosa. Ho pensato, invitiamo gli autisti a vedere cosa gli hanno comprato, al crossodromo internazionale di Cingoli, gli facemmo vedere cos'era capace di fare in fuoristrada l'Unimog, cosa che loro non potevano guidare perché loro lo guidavano su strada con una lama sgombraneve o con un braccio falciante. Una decina di Unimog, una decina di autisti che arrivavano anche dalla Germania e anche dall'Italia prestati dagli allestitori, stemmo una settimana a fare su e giù per il crossodromo di Cingoli. Un grande successo che ci ha fatto bene, soprattutto perché l'autista aveva capito cosa era il suo Unimog. Una grande problematica che dovevamo affrontare noi era che in Italia, ma penso anche nel resto d'Europa, l'Unimog veniva sottosfruttato. Lei pensi che ci saranno in Italia tra i 5.000 e 6.000 Unimog che adesso vengono tirati fuori per la stagione invernale. Lavorano, se va bene, fino a marzo in base alle nevicate che sono sempre di meno e poi vengono messi via e rivengono ripresi a novembre, poche ore di lavoro, pochi chilometri. Ci impegniamo tantissimo con i bracci falcianti, quindi dicevamo veicolo polivalente usalo d'inverno, poi usalo per sfalciare l'erba, oppure con giletta facemmo degli antincendio scarrabili, quindi potevano montare una cisterna a 2.000 litri scarrabile sul cassone. Questo era un lavoro enorme che facemmo in modo da poter far capire a chi comprava un Unimo che lo poteva sfruttare 365 giorni d'anno. L'U20 fu lanciato nel 2007, dopo l'UX100 era il secondo Unimo che veniva prodotto con la cabina avanzata, è l'unimo che è famoso per avere la cabina semi arretrata che gli dà grande visibilità all'operatore. La cabina avanzata dell'U20 arrivava dal Brasile, tempi di attesa abbastanza lunghi per avere le cabine dal Brasile verniciate e preparate. Fu un grande successo perché riuscimmo a contenere molto il prezzo, in pratica era un Un300 con una cabina avanzata e un prezzo molto contenuto. In Italia se ne sono venduti molti, in Svizzera se ne sono venduti molti, l'insuccesso lo determina sempre il mercato tedesco. Così come fu per l'UX100, anche per l'U20 il mercato tedesco non accolse bene questo prodotto e fu la sua fine. Però l'Enel ne ha 70-80 e sono molto molto contenti. Mi fa piacere poter ricordare che io ho conosciuto Manfred Florus che è stato uno dei progenitori dell'Unimog, è stato poi il gran capo dell'Unimo per tanti anni ed è quello che autorizzò la mia assunzione. Così come ho conosciuto Rössler, il progettista dell'Unimog, è morto nel 91, Feix, dimostratore di grandi dote e così come ho conosciuto Vischoff, von Frankenberg che è stato il mio capo, Bloom, fino agli ultimi Karsten Fuchs e Klaus Gauli. Ho collaborato molto per fare il Gerete System Partner perché questo è importante. L'Unimog da solo è un piccolo costosissimo autocarro, serve quasi a niente se non fare dell'eccellente fuoristrada, deve essere sempre abbinato a un'attrezzatura, questa attrezzatura deve necessariamente essere autorizzata dagli ingegneri progettisti degli Unimog. Perché? Perché se si rompe l'attrezzatura la gente non dirà mai se è rotta la lama da neve, se è rotto l'Unimog, è l'Unimog che non funziona. Per questo è stato istituito un catalogo, un grosso catalogo di attrezzature studiate, adorizzate dagli ingegneri progettisti dell'Unimog e quindi per l'Italia erano presenti i principali allestitori a garanzia questo del corretto funzionamento dell'Unimog. Saluto ovviamente tutti i miei collaboratori, spero di non aver dimenticato nessuno e mi scuso se l'ho dimenticato qualcuno, li saluto e gli ricordo di voler sempre bene all'Unimog. L'Unimog a me non ha mai tradito, mi è stato chiesto le cose più impensabili, raggiungiamo quella vetta, se non la raggiungi non ti compro l'Unimog. Raggiungevamo quella vetta e tu eri costretto a mantenere la parola. L'Unimog non ha mai tradito né me né i miei collaboratori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.